Il bate Borisov guidato da Ermakovic è una delle rivelazioni di questa edizione della Champions League e può contare su un'autentica leggenda del calcio bielorusso, Alexander Lebb. Centrocampista tuttofare di 34 anni e stella della sua nazionale, Lebb ha iniziato la carriera proprio con il bate nel 1999 e da quel momento ha vissuto una continua escalation che lo ha portato a diventare un punto fermo prima dello Stoccarda e poi dell'Arsenal, club con cui si è consacrato anche sul prestigioso palcoscenico della Champions. Tante partite con prestazioni di alto livello, assist e giocate di grande qualità lo hanno fatto notare al Barcellona che nel 2008 lo ha acquistato per circa 15 milioni di euro. Lebb non è tuttavia riuscito ad imporsi come aveva fatto in Germania e in Inghilterra e si è dovuto accontentare di vivere una stagione tra pochissime luci e molte ombre durante la quale ha comunque contribuito alla vittoria del triplete con Guardiola. Da quel momento in poi, tanti troppi infortuni hanno spesso frenato il rendimento di questo centrocampista poliedrico e duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla linea mediana e sulla tre quarti. Lebb ha infatti iniziato a peregrinare per l'Europa tornando in Germania, ripassando per l'Inghilterra e tentando esperienze anche in Russia e in Turchia. Nel mese di agosto ha iniziato la terza avventura al Bate Club in cui era già tornato nel 2012, giusto il tempo per vincere il titolo nazionale e partecipare al cammino verso il grande sogno della qualificazione agli ottavi della Coppa dalle Grandi Orecchie.